Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta integrale con funghi e popodorini. Il tempo di preparazione è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi freschi, carote d'aglia da julienne, pomodori piccadilli a pezzetti, spicchio d'aglio, olio d'oliva, un mazzetto di prezzemolo fresco, pasta integrale, acqua, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta! Mettiamo nel boccale l'olio e l'aglio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Adesso togliamo l'aglio e aggiungiamo i pomodorini e i funghi con le carote e il prezzemolo. e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Adesso mettiamo il sale, il pepe, l'acqua, e portiamo a ebollizione per 7 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Adesso mettiamo la pasta. Mescoliamo delicatamente. e facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 8 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La nostra pasta è pronta, andiamola a impiattare. pasta integrale con funghi e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!